Se devi fare un regalo last minute per tutte le età e per tutti i generi, beh, una consulenza di armocromia è sicuramente il regalo perfetto per scoprire i colori valorizzanti e i giusti accessori. E per le signorine darò consigli per la scelta del make-up e per la giusta tinta. Se sei curiosa di sapere come funziona e i prezzi, scrivimi qua sotto, ti aspetto!